Nelle prossime ore la Toscana, prima tra tutte le regioni italiane, invierà a Bruxelles i programmi operativi regionali per rastrellare oltre un miliardo e mezzo di fondi europei da destinare allo sviluppo del sistema produttivo e alla creazione di posti di lavoro, specie per i giovani. Si tratta delle uniche risorse certe di cui disporrà la Toscana nei prossimi sette anni. Due, i canali di finanziamento. 792 milioni arriveranno dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, di cui 536 andranno al sostegno di imprese piccole, medie e grandi che siano e all'innovazione tecnologica. Altri 29 milioni serviranno poi a potenziare i poli museali più attrattivi della regione e altri 35 all'ammodernamento del parco autobus della Toscana. Sempre nel Fese però abbiamo fatto anche altre scelte importanti. Una scelta importante è quella a favore dell'asso urbano, quindi degli interventi nelle città che però non saranno marciapiedi o quant'altro, ma saranno interventi che possono creare lavoro e occupazione. Altro capitolo poi, quello del Fondo Sociale Europeo. 732 milioni, di cui il 35% sarà utilizzato per tirocini, orientamento, apprendistati e più in generale formazione dei giovani. Il 20% andrà invece in interventi di inclusione e politiche di promozione delle pari opportunità, mentre un 5% sarà riservato alla formazione degli imprenditori. In una regione come la nostra, dove il 97% delle imprese sono piccole imprese, micro e piccole imprese, quindi sotto 15 dipendenti, noi riteniamo che il tema della formazione non sia soltanto il tema della formazione dei lavoratori, ma sia anche il tema della formazione dei titolari dell'imprese. Nel momento in cui Bruxelles darà via libera a questi progetti, verranno scritti e pubblicati i bandi.